Ciao a tutti giovegno sono Mario G10 e bentornati e benvenuti in questo nuovissimo video vlog qua sul mio canale Allora ragazzi vi raccomando prima di iniziare con il video lasciate subito un bel mi piace per supportare il canale Iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche, la campanellina per restare sempre aggiornati sui miei video riguardo il calciomercato, i nuovi arrivi e le notizie in generale riguardo società, giocatori e insomma tutto il mondo del Trapani Oggi parleremo della notizia della sessione di Enrico Zampa alle prindisi calcio squadra pugliese che milita anch'essa nel campionato di Serie D So che è una notizia uscita tre giorni fa ma io in questi giorni sono stato molto impegnato e quindi non ho avuto il tempo di portarvi questi video Quindi ve li porto solo adesso Appunto andiamo a leggere il comunicato che parla dell'accessione di Enrico Zampa al prindisi football club Andiamo a leggere perché Zampa, centrocampista del Trapani classe 92 dopo l'esperienza nella stagione 14-15 in Serie B Era tornata al Trapani per un mesetto, poi non ha partecipato al ritiro di Percusa Ed è stato per ragioni personali, è stato legato per motivi familiari a cambiare la sua società calcistica Appunto le sue parole sono state che ho detto lascio a malincuore un gruppo di ragazzi valido sia dal punto di vista tecnico che umano Ho trovato pure uno staff preparato per cui non posso augurare migliori fortuna al Trapani Un ringraziamento anche alla società, mi sono trovato bene con loro facendomi sentire importante sin dal primo giorno Appunto dice non posso spiegare al meglio a loro, al Trapani, sperando di raggiungere obiettivi prefissati Appunto poi la pagina del Trapani ci dice ad Enrico Zampa vanno i migliori auguri per il proseguo della carriera Diciamo un po' cosa ne penso io di questo acquisto perché poche volte da quando io seguo il calcio Da 5 anni però seriamente lo seguo diciamo da 2 anni Non ho mai nel Trapani visto una cessione così frettolosa perché è arrivato verso il 15-20 di luglio E verso i primi di quindi 2 settimane, 3 settimane al massimo e verso i primi di agosto Perché oggi siamo al, fatemi controllare, siamo al 8 agosto E' stata appunto una cessione molto frettolosa anche perché è una cosa che non si è quasi, dico quasi mai vista Perché un giocatore che va a venire in una società dopo un po' la lascia Diciamo che puzza un po' di qualche cosa in mezzo Non sa di un trasferimento molto diciamo professionale Perché un giocatore che fa questo tipo di cessioni dopo 3-2 settimane Che viene a Trapani e ha la voglia, fa un ritorno a Trapani e poi va al Brindisi Perché ha altri amate e è un comportamento non professionistico Lui dice per motivi familiari Ma motivi familiari che sappiamo non è, diciamo, nera conoscenza già prima Quindi o è successo qualcosa che noi non possiamo sapere da tifosi nell'ambito societario Nello staff, nell'ambito proprio dei calciatori, qualche litigio, magari se ne è voluto andare Però Zampa con questo comportamento ha dimostrato sicuramente di non essere un giocatore all'altezza di questa categoria Ragazzi, spero che questo, insomma, di una categoria professionale Anche se la serie D non è una categoria professionale Però, diciamo, facendo questo comportamento ha dimostrato di non essere un giocatore professionista Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto Mi raccomando, se fosse così, lasciate un bel mi piace E noi ragazzi, ci rivediamo ad un prossimo video Ciao